Noi vogliamo ottenere due cose contemporaneamente con questa misura. Da una parte abbattere l'inguinamento dei centri storici, dall'altra parte favorire il potenziamento dei commerci e quindi la vita dei nostri centri storici. Centri storici più vivibili, con meno CO2 e più attività commerciali. È l'obiettivo del programma di attuazione della misura City Logistics del Piano Regionale di Trasporti. Attorno allo stesso tavolo, al dodicesimo piano della cittadella regionale a Catanzaro, comuni, associazioni ambientaliste, camere di commercio e università, si sono ritrovati per valutare e aprire un confronto sulle modalità esecutive previste dal programma. La fase pratica prevede tutta una serie di azioni di supporto ai comuni. Saranno i comuni a scegliere quale modello utilizzare di più. Fare le piazzole delle merci in ambito urbano, fare delle corsie specialistiche per i veicoli merci, fare dei centri di distribuzione urbana delle merci fuori dai centri storici in modo da modificare i carichi. Insomma un panel di scelte che sarà nella vivacità e nella creatività dei comuni mettere a disposizione. Ma c'è anche il supporto all'acquisto per esempio di veicoli elettrici e quindi il supporto a modificare proprio le flotte urbane merci che al 90% sono diesel. Noi pensiamo entro una decina di giorni di lanciare una manifestazione di interesse. Noi pensiamo che in autunno già i comuni saranno in grado di attivare le politiche specialistiche che connesse con questo processo. L'azione finanziaria in questo momento è dell'ordine di 5 milioni. Se ci saranno interessi comuni la regione certamente supporterà ulteriormente questa azione finanziaria.